E' lunedì, si torna a lavoro, ti sentono dei suoni? Oggi è lunedì ma sei contento? Guarda pure Fabricietta come sta bene! Questa è la liner di sereno, non lo so meglio come sta eh! A braccia, a braccia! Ho fatto il regalo per il matrimonio di Luca. So 20 euro a testa. Tascio i vostri. Felice non è felice, Giacomone... Cara Lisa, non vedo l'ora di rivederti. E' martedì. E mancano ancora quattro giorni al fine settimana. 96 ore. Che poi sarebbero... 5.770 minuti. Federico offre da bere a tutti, ma non solo i tuoi. Giovanni si chiede sul portone, ma non è comodo. e i miei colleghi. Emanuele ha comprato... Mi dovete dare i soldi del regalo di Luca. E Enrico pedala in salita, ma non si stanca. Oggi è già mercoledì eh? Io vorrei sapere come fai ad essere così ottimista, Leo. Mi dovete dare i sorti. Per il regalo di Luca. Giù! Ma tu che ci stai fatto? Dobbiamo trovare una soluzione. Sì vabbè, ma come fai? Vado io! No, Lorenzo! No, Lorenzo! Lorenzo è pericoloso! Lorenzo! Lorenzo! Io non l'abbandono qui! No, Lorenzo! No, Lorenzo! 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 Oh, è giovedì, ma va a tapia bene, oh. Giovedì. Ah, ragà, oggi è venerdì e c'è una sorpresa per voi! DAIE! DAIE! E' una settimana che vi sto a chiedere! Scusate, ma usate il P2P, no? E il P2P? Ma non avete l'app PostePay? E allora, con l'app PostePay e il P2P, potete inviare denaro anche subito sulla sua PostePay. Ma dai! E allora, stava di più! Eh, fammo polemica! Ecco, Dio. È arrivato? Oh! DAIE! 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 DAIE!